buongiorno a tutti abbiamo appena passato raiano provincia dell'aquilo sul mona vicino sul mona ci apprestiamo a fare le gole di san venanzio per arrivare tramite valico forca caruso raccogliar mele poi decidiamo se proseguire per il passo del diavolo verso piscina giornata soleggiata giornata di aprile bella strada le gole di san venanzio una bella strada da percorrere per andare verso con le armele l'asfalto a tratti è ancora umidiccio le mie gomme sono arrivate quasi alla fine e quindi bisogna stare abbastanza attenti serie di gallerie bellissimo panorama strada abbastanza in discesa abbastanza insidiosa ecco da qui inizia il tratto delle gole di san venianzio bella strada a livello motociclistico bel panorama bello spettacolo bella piena di curve misto stretto asfalto buono bella 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 bellissime gole, bellissimo panorama bellissima strada piena di curve bellissime gole, bellissime gole, bellissime gole bellissime gole, bellissime gole, bellissime gole, bellissime gole e lo sapevo che questa curva purtroppo chiude è una curva che chiude, chiude dietro il muro una scarsa visibilità Castelvecchio Subequo, bellissime gole, bellissime gole, bellissime gole, bellissime gole.. castelvecchio Subequo bellissima il carrellone oggi giornata abbastanza calda pensavo facesse più freddo sulle montagne ma avendo nevicato essendo nevicato nella giornata di domenica c'è stato un tempaccio la temperatura è veramente gradevole non me l'aspettavo Castellieri altro piccolo borgo bellissima strada asfalto buono ci piace si sale gradevolmente ripeto stiamo salendo per Valico Forca Causo da Raiano dalla Tiburtina verso Sulmona si gira per andare a Raiano si continua a salire dopo le gole di San Venanzio e c'è questa strada che è uno spettacolo per chi ne volesse approfittare magari si trova in zona veramente stupenda veramente stupenda da sbizzarrirsi per chi adora le pieghe veramente da sbizzarrirsi veramente un divertimento veramente una strada da la Maxi Naked una strada dove veramente consumare la gomma da tutte le parti proprio eccoci qua Valico di Forca Caruso le paleoliche ecco il vento qui sopra non è normale c'è sempre ampie vallate c'è sempre vento nelle ampie vallate spazi liberi aperti e d'altronde ci sarà un motivo se ci sono le paleoliche un motociclista fermo stupendo panorama stupenda questa strada fantastica fantastica l'asfalto perfetto asfalto perfetto guardate che ballata che panorama panorama spettacolare e continuamente Ecco, con le armele, proprio lì, con le armele, Borgo Autentico, con le armele. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!